Si è insediato il nuovo consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, i cui membri presieduti dal consigliere meno giovane Nicola Paldino hanno subito proceduto all'elezione del presidente, riconfermato l'uscente Klaus Algeri, che ha subito esposto il suo programma, che punterà ancora su innovazione, identità, promozione della cultura e del territorio. Sono contento e ringrazio tutte le organizzazioni di categoria che hanno voluto questa mia riconferma in un clima così sereno. Io ritengo che è un momento di democrazia, un momento importante per le imprese e un momento importante anche per il nostro territorio. E' stata anche qui una prima volta, una prima volta perché è aperta anche alle istituzioni, non inventate, ma si sono presentate come al governatore Mario Liberio, che ringrazio, al segretario generale di Unione Camere Nazionale, Giuseppe Tripoli, che ringrazio, ai sindaci, sia di Marcello Mande di Rende che al sindaco di Mondatto, l'avvocato Caracciolo. E permettetemi anche di ringraziare, che mi ha già chiamato con soddisfazione, al mio doppio presidente, presidente come Confu Commercio e presidente come Unione Camere, il presidente Carlo Sancalli. C'è una programmazione che abbiamo in anticipo, già condivisa con le organizzazioni di categorie tutte insieme, quindi proseguiamo con quell'open camera a Cosenza che ha portato risultati a livello nazionale e internazionale, con i riconoscimenti di premi sia nazionale che internazionale, fino ad arrivare che Camera di Commercio di Cosenza sia un modello da prendere a livello nazionale. Algeri, che ha anche annunciato una serie di incontri con le personalità del mondo economico italiano, ha consegnato una targa al presidente della BCC Mediocrate, Nicola Paldino, per la sua recente laurea onoris causa e il bilancio di mandato al presidente della regione Calabria, Mario Oliverio.